Iniziamo. Va bene. Allora, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Siamo in casa del signor Gaspare De Lama e della signora Prem. Ho detto bene? Per chi non lo sapesse, il signor Gaspare De Lama è stato il protagonista per quanto riguarda il fatto più sconvolgente per quanto riguarda il contatto con gli alieni in Italia e ricorderete tutti il caso Amicizia. Allora, signore De Lama, mi può dire per favore in che anno è iniziata la sua esperienza e come è iniziata? Dunque, io sono entrato in Amicizia che era già cominciata. Sono entrato circa nel 60, è cominciato nel 56. V56 è un nome dato da noi, vuol dire viva il 56, l'anno in cui è cominciata. È entrata, è cominciata in una maniera, non c'è niente di eclatante, per cui la racconto il più brevemente possibile. Ecco, allora erano circa 20 persone che facevano parte di Amicizia. Uno di questi era il giornalista Ghibaudi, che allora era molto noto, aveva anche una rubrica televisiva. Su un giornale, un settimanale, mi sembra fosse il settimo giorno, aveva fatto un articolo sugli UFO. Allora non si chiamavano ancora UFO, non era stato coniato il termine UFO, dischi volanti. Un articolo con tre foto di tre dischi, diversi tra loro, di poco, ma diversi come modello, su 6-7 metri di diametro, sulla spiaggia di Pescara, ma a 20 metri dal litorale. Io ho guardato queste foto, ho letto l'articolo, ho guardato queste foto, io sono pittore, e ho detto, ma la luce che c'è sui dischi, sulla spiaggia, sulle nuvole, sono incorporati bene? Siccome si sa che si possono fare dei falsi, anche allora, oggi poi non parliamo col digitale, ecco. Mi sembrano proprio vere, poi l'articolo era interessante, non parlava di amicizia, parlava di loro, in genere. E allora, contrariamente al mio carattere, che non lo faccio mai, ho preso una penna, una carta da lettere, ho scritto in grigio del signor Givaudi, il suo articolo è interessante, le foto sono molto belle, sono convinto che sono vere, penso che questi esseri siano qui per aiutarci con le diali saluti. Ma proprio adesso non l'ho riassunte, ma era di poco più lunga, era proprio una lettera brevissima. Poi ho letto che lettera non dice niente, stavo per stracciarla, dico, beh, ormai l'ho scritta, gliela mando. E glielo l'ho mandata alla redazione della rivista, perché non sapevo neanche dove abitasse. E al giro di posto, dopo due giorni, ricevo una telefonata a Givaudi, che mi dice, ho ricevuto la sua lettera, l'abbiamo scelta tra tante, l'abbiamo, parlo in plurale maiestate, secondo me. Ci è piaciuta, vorrei conoscerla, io abito dalle parti di Asti, parto dopo domani sera, se una di queste sere possiamo vederci, parlare un po', dico, ma sì, stasera stessa. E' venuto, molto simpatico, molto spiritoso, elegante. C'ero io, mia moglie e mia mamma, abitavamo allora a Milano, in piazza Giulio Cesare. E ha cominciato a parlare, così, in maniera molto larvata, insomma, accennando. E noi dicevamo quello che pensavamo. E' stata una serata simpatica, ha detto che sarebbe ritornato. E dopo, infatti, dopo una settimana è ritornato, idem, e dopo una settimana è ritornato ancora. E ci diceva sempre delle cose un po' più spinte. E noi, dopo la seconda volta, diciamo, ma come fa a saperle? Quindi quando lo chiedevamo, lui era un po' evasivo. Dopo, l'abbiamo saputo dopo, da Bruno, Samaciccia, da lui, che eravamo osservati per vedere le nostre reazioni. E alla terza volta ci ha detto tutto, che eravamo, erano un gruppo, insomma, tutto ci ha detto. E se volevamo far parte, e noi, mia mamma, io e lei, sì, sì, sì. E poi mi ha portato, c'era il nostro figlio che aveva due anni, per cui non poteva... Mi aveva due anni, mi aveva due anni, di più, di più, di cinque anni. Beh, insomma, non poteva essere lasciato a casa solo, e lei è stata a casa, mia mamma, per non lasciarla sola, è stata con lei, e sono andato solo io a conoscere Bruno Samaciccia, che abitava in via Capicellatro, a cinque minuti di macchina da noi. Faccio breve, e poi finisco, mi ha salutato, tutto quanto, abbiamo parlato un attimo, e poi mi ha detto, siamo passati al tubo, devi comprare una radiolina, perché per ragioni carmiche, credo, io non potevo essere tele... ma far parte di telepatie, di comunicazioni mentali. Contattabile telepaticamente, insomma. Ho preso una radiolina, portate, tenla sempre con te, anche quando esci, era un gelosino, allora i più piccoli erano 14 centimetri di lunghezza. Il giorno dopo l'ho comprato in un negozio, glielo ho portato, me l'ha messo su un tavolo, è venuta fuori una fiammata azzurrona, ma non faceva parte della loro tecnologia, probabilmente era per darmi un segnale eclatante che qualche cosa era successo a questa radiolina, e lo ho preso in mano, si è accesa da sola, si è sempre accesa e spenta da sola, cambiavo le stazioni, cambiavo le frequenze, onde, meglio, la voce andava avanti in perterrile, e la prima volta si è sentita la voce di Sigil, che mi ha detto ciao Gasparone, mi hanno sempre chiamato Gasparone, ricordati, parole tale quali, perché sono brevi, e le prime parole non si dimenticano, mi ha detto ricordati sempre che non siamo né perfetti né infallibili. Ecco, è stato il primo impatto con... Senta, signor Delama, ecco, questa è una delle affermazioni più famose, no? È una delle affermazioni più famose, ok, per quanto riguarda questa esperienza che lei ha avuto, nelle varie interviste, numerosissime interviste che le hanno fatto, lei riporta sempre questa frase, spessissimo quantomeno, no? Allora, secondo lei, cosa volevano intendere con questa esternazione, noi non siamo perfetti? Dunque, è la verità, non sono né perfetti né infallibili, non c'è niente di perfetto, saltando addirittura a una delle ultime affermazioni che noi chiedevamo, com'è Dio, cos'è Dio, chi è Dio, credete in Dio? Ci davano poche risposte, ci lasciavano libri, perché tra di noi c'erano anche dei cattolici, c'era anche un atto, per cui ci lasciano veramente libero arbitrio, però mi hanno fatto capire che Dio è un essere che per sua volontà è in evoluzione continua, perché evoluzione è un orgasmo cosmico continuo, per cui se Dio è in evoluzione continua, la perfezione non c'è mai, è neanche una verità finale. ecco, ecco una ragione di più per dirci non siamo né perfetti né infallibili, se non lo è Dio. Certo, no ma è straordinario questo concetto dell'instabilità, di conseguenza anche della mutevolezza delle cose, per cui chiaramente affermare la perfezione vuol dire fare una fotografia a quello che è la vita, l'evento della vita, la dinamica della vita, che non è veramente fuori luogo. E' ancora una cosa, anche perché noi pensando agli extraterrestri magari pensavamo che erano perfetti, infallibili, data l'evoluzione, però loro dicendo così c'era anche il fatto di smorzare un po' le nostre idee, e insomma, appunto perché sono in evoluzione non possono essere perfetti. Certo, straordinario. Allora, per quanto riguarda questa esperienza, che immagino che abbia cambiato la vita in pratica, perché sono esperienze totalizzanti, questa non so se lo sa, ma la sua esperienza, la sua del gruppo, degli amici, del caso Amicizia, è famosa in tutto il mondo, molto famosa in tutto il mondo, ritenuto il caso più circostanziato di esperienza di contatto alieno, lo sapeva? Sì, dunque, io credo che il caso Amicizia abbia una particolarità, che eravamo in tanti. Ecco, eravamo in tanti, io e mia moglie pittori, poi le mamme e le mogli, quasi tutte casalinghe, però c'era un magistrato con noi, c'era un geometra, un ingegnere, un architetto, un componente della Borsa Valori di Milano, un venditore di macchine agricole, era eterogenea la componente. Il particolare è che eravamo in tanti e tutti dicevamo la stessa cosa, e poi ho notato che i contattisti di oggi hanno degli approcci diversi dai nostri, con una tecnologia molto più evoluta che allora ci saremmo chiesto ma è possibile, com'è? Ecco, invece allora l'approccio era più, ecco, meno eclatante, era più normale, ecco. Quindi, al giorno d'oggi, anche nei cieli, come vediamo, le apparizioni di questi apparecchi fanno di quelle cose che una volta non facevano, un po', probabilmente, dovuto alla loro tecnologia, che se la nostra avanza piano piano, dato i dati che hanno, le componenti da poter sfruttare, a cui sono arrivati, la loro tecnologia avanza ancora più veloce della nostra, per cui hanno delle possibilità tecnologiche che per noi sono fantascienza, come il raggiungere, noi allora pensavamo che venivano da pianeti vicini, la velocità della luce non è superabile, ecco, e infatti, però ci sono dei piccoli punti, già da parte della nostra scienza, della nostra fisica, è morto da un bel po', Einstein, però aveva ipotizzato che tra buco nero e buco nero ci fossero dei corridoi spazio-temporali, per cui si poteva viaggiare nello spazio a velocità superiori alla luce, ma non a superiore luce, eludendo lo spazio, come anche i motori a rotazione, sono stati ipotizzati, ecco, e quindi spazio-temporali, già i nostri fisici, astrofisici di adesso, noi abbiamo parlato con un astrofisico che ci ha detto tante cose interessanti, stanno studiando, come ipotesi, il viaggio anche temporale, cioè nel futuro e nel passato, ecco, il giorno d'oggi accettiamo tutto, vengono giù degli esseri che sono andati nel passato e nel futuro, è più in là della fantascienza, allora non era possibile, era una cosa più piatta, più accettabile dalla nostra razionalità, ed è forse per questo amicizia che incontra favori, perché non sbalestra, ecco, mentre invece la loro tecnologia, se sapessimo come fanno arrivare fino a qui, da Alfa Centauri, o dalle Pledi, non è accettabile della nostra, si usavano un linguaggio che comunque era un linguaggio che era più sensibile, non le costringeva a prendere la loro mente, adesso, non c'è il superamento della città della luce, c'è, si disintuono in loco e si reinteggono qui attraverso delle coordinate, un attimo, al di là della fantascienza, insomma. Allora, signor De Lama, è una cosa che a me ha sempre incuriosito, no? Allora, si dice che praticamente loro danno molto spazio al nostro libero arbitrio, cioè ci fanno fare delle cose, no? Nel pieno della nostra esperienza con errori e possibilità. Allora, loro invece, in un certo qual modo, hanno cercato di dare un indirizzo oppure sono sempre stati neutri nella loro azione, nel vostro contatto con voi? Dunque, sono sempre stati neutri in quanto riguarda Dio, sì, ci hanno detto qualche cosa ma non ci hanno mai spinto a dire c'è la reincarnazione, poi la reincarnazione è saltata fuori perché io ho avuto una prova di reincarnazione che adesso non sto qui a dire. No, guardi, ci interesserebbe molto invece, se è possibile. Ecco, allora finisco la sua domanda, ma non ci hanno mai imposto idee religiose, mai detto, non so, il cattolicesimo, Gesù è l'unico, ecco, mentre le religioni Gesù è l'unico, Buddha no, per i buddhisti Buddha sì e Gesù no. non ci hanno mai imposto niente, ci hanno lasciato liberi, rispondevano alle nostre domande, però le nostre domande sulla religione ci hanno fatto capire che erano non gravite, perché io ho avuto l'impressione che ci rispondessero in un'adatta maniera per non sballestrarci. Per non condizionare. Per non sballestrare, perché quello che conta è come si percorre una strada. Se io sono buddista o avventista e sono ho il coraggio di amare, perché per amare ci vuole non cultura, ci vuole coraggio. Se c'è quel coraggio qualsiasi strada è buona, se non c'è quel coraggio anche i testi sacri più perfetti non servono a niente. Ecco, per cui in sintesi amare ci vuole un gran coraggio, perché Gesù ha detto amate il vostro posto come se voi stessi, ma non ci amiamo neanche noi stessi. Ci nutriamo male, ci arrabbiamo, abbiamo una condotta di vita che non è di evoluzione non ci amiamo, l'amore ci hanno detto ecco comincia l'amore quando finisce la logica. Io non ci sono ancora, grazie. Ci vuole ancora, io non ci sono. Cerco di fare delle azioni etiche che fanno parte dell'amore ma le faccio afforzandomi ma non so il coraggio. Amate il prossimo voi stessi, no? Tu non ci sei più, ci sono solo gli altri. Eh, io non ci sono ancora. Ecco, per cui e loro ci sono invece. E si percepisce questa cosa? Ecco, sì, 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 sì. Allora, mi scusi un attimo, signor Te Lama. Giuridicamente la moglie non è non è considerata valida, no? Giuridicamente la moglie quando quando a meno nei tribunali sia quando è contro il marito sia quando è a favore del marito è considerato un testo un testo non 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 calcolabile. Ecco, comunque lei mi ha chiesto della mia esperienza come ho saputo di una mia vita passata. Allora, sì, io faccio riformulo la domanda a favore delle persone che ci stanno ascoltando e vedendo. Allora, in pratica, no? Questi B56 sono sempre stati abbastanza approssimati per quanto riguarda il fatto di spiegare cose, concetti, anche l'esistenza di Dio e anche sulla reincarnazione. Però, in un'occasione è sfuggito un po' qualcosa per cui lei è potuto risalire alla sua, a una sua esperienza di reincarnazione. ce ne parla? Sì, cerco di essere breve perché questa risposta è un po' complessa. Allora, io e mia moglie eravamo in Oregon, in America, nell'ashram di Osho, perché io e mia moglie siamo diventati due discepoli di Osho. Ho visto la foto? Ecco, infatti, un extraterrestre, prima che finisse un'esperienza, non vis-à-vis, ma per canalizzazione di una persona, mi ha detto voi due, io e mia moglie, cercatevi un maestro. Si capisce che avevamo bisogno o di meditare, di fare certe tecniche, o altro. noi ci è piaciuta poco l'idea del guru e sono passati anni che non abbiamo neanche cercato perché avevamo imparato anche a disubbidire gli extraterrestri. Ah sì? Sì, se non si spagolava una cosa. E loro se ne accorgevano? Ci lasciavano liberi, ci lasciavano liberi, sì, sì. Vabbè, cerco di abbreviare. Siamo nell'Asharan di Osho, in Oregon, ecco, 40 chilometri per 40 chilometri, campagne, monti, fiumi, tutto disabitato, c'era soltanto la nostra cittadella costruita da noi, ecco, c'erano 15.000 abitanti, 5 fissi e gli altri a turno andavano e venivano. eravamo lì in attesa di Osho che veniva dove lo aspettavamo tutti seduti sotto questi cappannoni non era ancora arrivato e davanti a me prima della passerella dove camminava Osho per sedersi sulla sua poltrona c'erano dei Sagnasin seduti, Sagnasin sono i discepoli di Osho si chiamano Sagnasin. Un diecifile di tutte queste giubbe, camicie rosse, arancioni perché dovevamo vestirci con quei colori. Poi era il po' baleno colore del tramonto e io che sono pittore ho detto ma guarda che bel quadro astratto quello lì l'ho inquadrato con le dita c'erano dei gruppi che formavano un quadro di colori diversi messo in una maniera io che sono un pittore non astratto ho detto adesso quando vado a Milano faccio un quadro lì astratto me lo ricordo bene e quindi ero probabilmente nel qui e ora ero talmente preso da quella questa è una mia spiegazione perché non c'è una ragione per cui di colpo non c'è più né quadro astratto né niente né Osho che deve arrivare di colpo sono un pirata del 500 600 all'epoca dei pirati ma non un pirata noto come Morgan o Francis Ray un pirata della ciurma e so che e lì c'è un vascello ma non lo vedevo il vascello non lo vedevo i pirati ma era più che se li vedessi difficile dire la parola è inutile che mi esforzi matematicamente sicuro che dovevo andare all'assalto all'arrembaggio di questo vascello spagnolo per prendere i dubloni tutto il mio scopo della vita era andare a sgualdrine e bere le rum Dio non era manco quindi chissà quante panze ho sbudellato ero così nel 500 ero così è durato difficile dirlo mezzo minuto questa impresione ma netta nettissima e poi mi risveglio e ritorno nel nel mio qui ora ai saniasi e Osho stava arrivando e io comincio a dirmi ma cosa ho visto ma cosa mi è successo ma è possibile che io sia stato un pirato perché ero sicuro vabbè non è finita qui quasi Osho arriva si merita tutti insieme Osho se ne va si va tutti a mangiare si mangiava splendidamente io e lei mangiamo poi finito da mangiare estate caldo Oregon si andava tutti a fare un riposino col giorno lì c'era un venticello io dico stiamo qui seduti prendiamo le sedi del ristorante ci mettiamo fuori c'era un sentiero di sassi erba ci mettiamo qui guarda siamo soli in tutto questo ben di Dio in questa natura magnifica ma si ci mettiamo lì per fortuna gli avevo detto la mia esperienza no che avevo vissuto il vascello il pirata l'ha detto a chi è? com'è? a sua moglie si si a mia moglie quindi mia moglie ha detto ma certo che è una rincarnazione cosa vuoi che sia io ho detto senza altro però non c'era una prova definitiva siamo lì che parliamo di questa cosa e vediamo in lontananza un discepolo vestito in arancione che si avvicina lo vediamo che sarà stato a 150 metri 200 e si avvicina e quando è a 10 metri lo vediamo bene era alto sui 2 metri di qualche cosa all'incirca perché quando si è fuori all'esterno non è facile quantificare molto bello con dei era vestito da pirata con i nostri colori era una bandana in testa aveva degli orecchini di rame i capelli biondi a ricciolini fichi fin sulle spalle degli occhi stupendi un naso camminava sembrava che non toccassi il terreno aveva il bavolo della camicia rialzato i pantaloni rimborsè gli stivaletti a metà invece della cintura una fascia così e guardava nel fisso si avvicina e noi eravamo seduti e non devia mai e dico un bel momento se deve camminare e mi guarda fisso e io lo guardo e penso di me forse non l'avevo mai visto vabbè eravamo anche in 15.000 però non l'avevo mai visto e dico forse mi vuole chiedere qualche cosa del paese e infatti mi guarda negli occhi e si ferma davanti a me e mi mette un dito sul naso sfiorando e mi dice con una voce che si sentiva che non era italiano ma parlando in italiano quindi eravamo in 15.000 gli italiani erano 79 so il numero perché siamo partiti tutti dalla malpensa con lo stesso pulmono e tutti in gruppo contati 79 quindi su 15.000 persone 79 e lui parla in italiano come faceva sapere che io ero italiano e mi dice cerco di imitare la voce il più possibile tu pirata io rimango lì distruggo e siccome era vestito da pirata lui sembrava e dico no tu pirata e lui mi fa no 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 mi rimette la punta e mi dice tu tu pirata parlando un po' stento questo italiano e va via come due cretini fessi rimaniamo seduti immobili e la prima scematta che dico è ma 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 quello lì è un paranormale pazzesco come faceva a sapere che io avevo avuto questa visione di pirata passa un po' di tempo lei si medita lei esce dalla meditazione mi dice guarda che non era un paranormale era un extraterrestre io cretino come ho fatto a non capire lo su e lei mi scusi signora come pensa averlo riconosciuto in quanto extraterrestre cioè com'è che se ne accorga in meditazione mi è venuta questo lampo non era un paranormale era un extraterrestre ok e poi il fatto che fosse vestito da pirata cosa c'entra col paranormale al momento non abbiamo pensato è strano perché eravamo prima c'è stata amicizia e poi c'è stata questa cosa qui avremmo dovuto pensare che era un extraterrestre era anche altino e invece forse sembra come paralizzati così come noi stupidotti quando quando si è si è terrestri prima di accettare che un fatto sia se ne corre è al di là delle nostre sensibilità è quasi finito il racconto ancora pochi secondi qualche mese fa è arrivata qui la Gio Alberti non so se lei la conosce no è una è molto nota è una sensitiva lei si che è paranormale è una ecco una sensitiva canalizza ecco abitava a Milano adesso abita in Liguria voleva conoscerci arriva qui simpaticissima parliamo di tante cose e combinazione le dico di questa storia no lei aveva detto un qualche cosa gli avevo fatto vedere le ho qua se volete poi le faccio vedere anche a voi le loro calligrafie degli esempi che mi hanno dato e lei aveva messo le mani su questi fogli e aveva detto qualche parecchie cose della mia vita questa da bambino da giovane che solo io sapevo e idem di mia moglie allora io ho visto la potenzialità di questa signora chissà perché gli ho raccontato la storia del tuo pirata sono arrivato al punto che questo essere si avvicina a noi e non mi ha ancora parlato lei mi interrompe e mi dice guarda che non era un paranormale era un extraterrestre allora secondo lei visto che comunque ha fatto un'esperienza della Senease e neanche ancora un estimatore immagino giudicare dal libro di Osho siamo veri anche se è morto certo secondo lei Osho era un po' extraterrestre o non c'era alcun riferimento dunque Osho a me piace non fantasticare era un terrestre come noi il papà e la mamma avevano uno dei migliori negozi di sete di stoffe in questa città indiana non ha mai detto niente di io sono sono extraterrestre sempre stato con i piedi per terra ecco c'è da dire una cosa che da quello che mi risulta è uno dei soli o dei pochissimi maestri che ha parlato di extraterrestri confermando la loro presenza qui la loro realtà qui in due parole perché non è una cosa così straordinaria per lui è normalissima ha parlato della loro presenza nei nostri cieli ha detto chi ne sa più viene a insegnare chi ne sa meno ecco ha detto una cosa che non aveva mai detto nessuno ha detto che tutte le società esoteriche terrestri i rosacroci i primi muratori quindi creiamo la massoneria che sono nate tutte con degli con dei con degli atteggiamenti belli positivi perfetti con dei propositi poi immarcisciti nel tempo dell'uomo che immarcisisce tutto noi abbiamo immarciscito amicizia questo sarebbe stato un argomento che avrei voluto toccare con lei allora intanto però visto che ci sono c'è la questione delle foto delle foto di questi V56 che sono praticamente sono riportate si vedono sono molto famose su Google se noi chiediamo una foto del genere ci viene presentata questa foto questo personaggio sulla 35 piuttosto alto e un altro molto più piccolo accanto una foto un po' dubbia di cui lei disconosce completamente l'originalità dunque per soprattutto per onestà come posso io dire questa foto è vera o no onestamente è meglio dubitare che la facci luneria eh sì 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 no andiamoci piano per cui se io la foto non so non so chi l'ha fatta non la conosco e non mi dice niente perché può essere una foto qualsiasi io non mi esprimo anche le foto che vedo di UFO di dischi volanti anche quelle fatte scattate al giorno d'oggi posso dire come allora che bella la credo vera ma specialmente oggi con il digitale tutto si può fare ecco per cui il documento fotografico a me non dice più niente dice più una storia raccontata da uno con passione con amore che una fotografia bellissima ecco io ho visto delle fotografie della NASA che ha la NASA fatta no che ha la Marina militare americana fatte da soldati graduati della Marina militare confermate dopo anni dal Pentagono come foto vere io le ho guardate mi sembravano false talmente sono belle troppo belle e invece sono per cui è difficile giudicare una foto ecco questi due quello alto e quello piccolo è il racconto di Bruno quando la prima volta si sono incontrati noi non abbiamo mai vista questa foto ogni modo le foto secondo me anche quelle utenti che non fanno testo perché ormai si può fare tutto quello che fa testo al giorno d'oggi e che io aspetto che possa arrivare entro pochi anni è una conferma di un ente o l'ONU che ne parla o c'è stato già una delle conferme della NASA del Pentagono ecco conferme anche di astronauti ma appena in pensione di generali di corpo d'armata appena in pensione perché quando sono in ruolo non ne parlo hanno probabilmente un giuramento non ne possono parlare o vengono messi fuori dal loro rango non so secondo secondo lei signor De Lama per quale ragione vengono tasciuti questi avvenimenti cioè c'è un motivo preciso per cui non vogliono renderli noti dunque ecco allora io penso che i motivi sono innumerevoli e alcuni mi sfuggono perché sono sottili di alta politica non so i più grossolani sono alla portata di tutti cioè se si sapesse che ci sono degli esseri buoni intelligenti avanzati ne dico una che ci possono curare il cancro con una pastiglietta data la loro tecnologia che ci possono far vivere meglio eccetera 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 i nostri governanti hanno finito di vivere perché tutta la gente dice va al governo uno di loro e assumiamo le forme di governo loro e assumiamo i modelli di vita loro è finita per noi ma sta signor Dell'Ama secondo alcune teorie questo è proprio un momento in cui sta per succedere questo ci sono anche alcune notizie ventilate da Trump ma anche da grandi organi no? sì sì quando il peso è troppo il sistema comincia a cicchiolare a fare delle crepe è un bel momento deve crollare ecco quando sarà questo momento non lo so io penso a breve so che Pinotti ha un gruppo fortissimo di persone competenti e interessanti anche dal lato persone di peso che di tutti i paesi Canada Australia tutto il mondo Russia il loro compito è quello di riuscire a far dire all'ONU che di questa presenza ufficialmente perché lo sanno manca solo l'ufficialità la NASA ha già detto c'è stato ultimamente un generale di corpo d'armata israeliano che ha confermato appena il giorno dopo che è andato in pensione ha confermato che Israele e gli Stati Uniti da un po' di tempo sono a contatto con questi esseri e collaborano per certe cose non l'ha detto quali Trump ha fatto un'intervista brevissima con il figlio che non lo chiama papà nell'intervista ma si sa che è suo figlio l'intervista è andata su un canale televisivo di proprietà di Trump Borlusconi ne ha 4 lui ne ha 1 l'intervista dura 38 secondi cosa si dica nei 38 secondi il figlio gli chiede conosci il caso Roswell il caso Roswell è quello del disco che è crollato e Trump dice si è un caso interessante parla un po' del caso Roswell e poi il figlio gli dice ma cosa sai sui dischi volanti e so parecchie cose ma per adesso non le dico questa intervista è andata in onda sul suo canale televisivo dopo pochi giorni nel Parlamento un senatore americano gli dice dice a Trump lei ha detto così così si no deve dire cosa sa sui dischi volanti non può tecere io ve lo chiedo formalmente deve dirlo per legge il presidente deve rispondere per legge americana l'ho saputo pochi giorni fa c'ha tempo 180 giorni per rispondere Trump ha detto va bene rispondo tra 180 giorni mancavano pochi mesi al suo mandato però intanto ha detto queste cose secondo lei signor De Lama Trump è un alieno o no? Trump non è un alieno no un alieno non lo è potrebbe essere alieno qualche d'uno del suo entourage tipo generale Flynn per esempio non so chi qualche d'uno potrebbe essere chi gli è vicino ecco potrebbe virgolette 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 perché chi me l'ha detto è una persona di fiducia ma possiamo sbagliare in buona fede potrebbe ma dunque tutto consiste nel libro orbitio le faccio un piccolo esempio breve dell'importanza del libro orbitio perché il libro orbitio è una legge cosmica che va rispettata se ecco un esempio per capire l'importanza del libro orbitio millennio fa questo me l'ha detto Sigi il V56 me l'ha detto la faccio breve millenni di anni fa aiutavano anche loro i pianeti a evolvere come adesso fanno con la terra piano piano grattamente rispettando il libro orbitio perché perché vi ricordo che loro stessi hanno detto non siamo né perfetti né infallibili hanno fatto degli errori anche loro avevano strumenti allora forse o meno evoluti della tecnologia per capire qual è il livello d'amore di un pianeta qual è il livello di progresso animico di un pianeta di tutta l'umanità di quel pianeta probabilmente o lo strumento non è stato esatto o l'hanno interpretato male hanno raramente leso intaccato il libro orbitio del pianeta cos'è successo? è successo che con l'umanità col popolo col pianeta ha fatto un salto immediato di evoluzione perché è costretto poi dovendo crescere di suo davanti a nuovi passaggi a nuove difficoltà è crollato miseramente perché c'era una base un periodo fittizio non era reale il libro orbitio se non creiamo tutto noi con le nostre fatiche con la nostra comprensione con la nostra volontà se viene intaccato e ci viene fatto fare un salto è la nostra fine è la nostra fine è una legge vi dico brevemente una cosa divertente parlavo con Sigi per per Radiolina e gli ho detto ma non c'è mai non può capitare che un vostro pilota impazzisca dire dei comandi al disco volante per fare delle belle acrobazie tra le guglie dell'uomo di Milano alle tre del pomeriggio per tre ore che arrivano lì tutti i giornalisti il Corriere della Sera e non se ne parla più e Sigi mi ha risposto capisco l'altro premuro che succede con qualche cosa che non può succedere ma questo non può succedere per due ragioni una la pazia non fa più parte delle nostre malattie che sono tutte psicosomatiche le malattie al cento per cento tutte anche se uno cade e si rompe una gamba è psicosomatica allora non abbiamo più la pazia ma Gasper mi ha detto ammettendo che un nostro ci voglio venire incontro ammettendo che un nostro pilota impazzisca e sta per dare gli ordini al disco volante per fare le acrobazie tra le guglie del Duomo di Milano cosa succede e io cosa succede interviene Luti che è un comando superiore di controllo di tutti i movimenti dei governi della galassia che vieta al disco di fare quelle manovre il pilota pazzo può comandare al disco ma il disco che è semiobiologico è tarato da un ente superiore che si chiama UTI non so cosa voglio dire e il disco disubbidisce al pilota vedi come vedi come siamo come sono quasi infallibili quasi infallibili senta signore dell'ama gli extraterrestri quelli che ha conosciuto lei sono immortali o anche loro subiscono la fluttuazione vita-morte dunque intanto ci sono tante dimensioni anche tra di loro più ci si evolve più si è diciamo longevi anche se non è la parola esatta quelli che abbiamo conosciuto noi il 256 non sono immortali le rincarnazioni continuano anche con loro allora non sono immortali ma per appunto per essere sono esseri superiori e hanno una tecnologia superiore per cui possono rinnovare anche le cellule per mille e più anni la cellula è rinnovabile non all'infinito perché non è rinnovabile l'infinito però possono vivere fino a 3000 anni i lungi 56 vivevano circa 3000 anni finito il ciclo di 3000 anni avrebbero potuto vivere ancora ognuno di loro avrebbe potuto vivere ma ha compiuto tutte le azioni tutto il dovere per fare un salto quantico di qualità cioè per incarnarsi in un mondo ancora più brutto più bello più divino come qualità per cui uno di loro ha raggiunto 3000 anni non muore perché muore dopo 6000 anni ma apre muro andare di là lascia il posto che viene su quel pianeta viene preso da un'anima nuova che deve arrivare e sceglie di andare al di là come? attraverso una forma di eutanasia forzatamente ecco è un'eutanasia bellissima come quando lei andrà via di qui ci si salute se si spera di trovarci ancora non c'è niente di tragico ci sono delle stanze speciali chiamiamo le stanze con delle poltrone speciali chiamiamole poltrone uno si siede saluta schiaccia un bottone e è al di là senta signore dell'ama e semmai mi è mai venuto il dubbio che queste potevano essere delle persone non terrestri i V56 che magari facevano parte di un inganno qualcosa del genere oppure l'ha avuto delle prove schiaccianti eclatanti in merito al fatto che loro fossero extraterrestri dunque il fatto che ho visto per appuntamento dei loro dischi il disco è una cosa materiale tutto può essere però siccome sono sempre stati sinceri con noi io penso che ci abbiano detto la verità certo una verità comprensibile per la nostra dimensione siccome ci hanno spiegato come mangiavano per esempio un piccolo particolare noi tra gli compiti che avevamo ogni tanto o raramente portevamo un camioncino un furgone pieno di frutta sulle basi che loro ritiravano allora vedevamo questa frutta nel camioncino e poi di colpo non c'era più l'avevano disintegrata e rintegrata nelle basi allora di questa frutta loro toglievano gli enzimi e le vitamine e si nutrivano solo di quelle defeccavano ogni 15 giorni ma era una poltiglia una una specie di schiumetta ecco allora tutti questi particolari che ci hanno detto perché li richiedevamo noi mi fanno pensare che non ci dicessero delle balle che non ci facessero portare della frutta e fossero degli dei poi è chiaro che dal minerale il minerale fa una certa fatica per diventare smeraldo fa un percorso noi ci siamo stati anche noi e poi il vegetale e poi l'animale e poi l'uomo e poi il super uomo e poi il semi divino e poi ci arriva il divino e poi ci arriva Dio quindi diciamo come prove eclatanti che l'hanno convinta del fatto che comunque avesse a che fare con delle extraterrestri c'è questa sparizione di questa frutta di cui l'ha parlato numerosissime volte nelle sue interviste che immediatamente veniva spariva alla vostra vista questa frutta questo camion di frutta e ci sono state anche altre prove che lei diciamo sono state un po' da chiarificatore per quanto riguarda il fatto di credere alla loro autenticità il robot l'automa c'è stato l'automa quella è anche una prova anche quella una volta io ho avuto a che fare con un robot per la strada si costruivano dei robot era perché occorrevano questi robot con questa macchina piccola piccola scemata mia era un robot umanoide diciamo per capirsi come noi tale e quale io se non succedeva un fatto l'avrei scambiato per un uomo tale e quale fanno dei robot ci sono anche robot per esempio nelle miniere non mandano più l'uomo dei minatori con rischio mandano delle macchine ma già noi abbiamo dei robot la nostra tecnologia ha i robot che pulisce per terra evita i mobili gira in giro i mobili quindi hanno dei robot il fatto che avessero dei robot mi fa capire che non sono più divini non sono divini ancora il divino ecco il fatto che occorressero dei mezzi come quello che noi chiamiamo oggi di UFO non non è più divino perché il divino non ha bisogno di un metro per spostarsi il divino è energia pura loro anche certe spiegazioni scientifiche che mi hanno dato mi hanno fatto capire che non dicevano delle bugie cioè il nostro corpo ha una certa densità atomica il loro corpo dunque erano alti due metri due metri e mezzo tre circa normali né grassi né magri pesavano 20 kg perché? perché il loro corpo era più diafono del nostro avendo un'anima meritevole meritevole di un certo stato di essere un corpo meno denso richiama meno i desideri della materia sentono meno i desideri bassi della materia come un animale un gorilla un gorilla si ha voglia di accoppiarsi e la gorilla non ha voglia la violenta noi già ragioniamo cara se non stai bene a domani quindi loro avevano un corpo con tutti i vantaggi di essere meno denso del nostro la loro vita è talmente una gioia di stare insieme di godere di tutto quanto che la chiamavano ce l'han detto il loro modo di vivere è un orgasmo cosmico continuo se noi avessimo quella gioia lì con questo corpo ci ammaleremmo perché le vibrazioni di gioia questa densità non le sopporta e infatti una cosa che mi ha colpito molto perché loro sono stati tantissimi anni con voi e poi a un certo punto se ne sono andati se ne sono andati perché ci sono stati dei dissapori si sono abbassate le vibrazioni probabilmente e hanno deciso di andare via ma non potevano fare qualcosa invece per rimediare al vostri diciamo quindi per questo non l'hanno fatto certo non l'hanno fatto perché dunque è finita per colpa nostra per colpa del gruppo è finita ce l'avevano detto tante volte il massimo che potevano dire siate uniti siate uniti siate uniti noi ci siamo l'ego le invidie vattene la pesca abbiamo creato questo uredda che vuol dire amicizia amore una loro parola un di noi è andato a ricercare urredda ur in sanscrito vuol dire luce la radice di luce poi detto per inciso di sanscrito non è la lingua antica del pianeta terra è la lingua antica della galassia ecco e quindi dicendoci queste cose di queste vite alle quali devono ancora accedere loro questi corpi sono tutte cose che fanno parte di verità che si fanno pensare che ci hanno detto delle cose vere ecco che ci hanno detto sempre la verità io sono sicuro che le verità che potevamo capire ce le hanno dette ecco poi è chiaro che certe cose non ce le hanno dette perché non possiamo ancora capire certe cose per esempio certi valori per noi la famiglia è un valore ci sono dei valori nostri che per loro sono disvalori non hanno più la famiglia perché hanno un amore tale che vogliono bene al proprio figlio e al figlio degli altri uguali non c'è più perché l'amore non fa mio figlio è l'ego per cui noi abbiamo amore più per il nostro figlio che che venga un grand'uomo un gran genio nostro figlio è una nostra ancora partecipazione a un ego che non fa parte dell'amore loro amando le mogli degli altri come la propria i figli come il proprio non c'è più ragione di dire la mia casa mio figlio quello è valido ancora per noi perché dobbiamo ancora imparare ad amare e allora il figlio è il sangue del nostro sangue è come la tana per gli animali abbiamo bisogno ancora di quel passaggio ecco loro amano veramente con la maiuscola per cui vivono in comunità non c'è più la famiglia hanno rapporti sessuali gli estaterrestri quelli che ha conosciuto lei dunque da quello che so io noi terrestri se vogliamo facciamo i figli in provetta abbiamo già la tecnologia ecco figuriamoci loro se non possono fare i figli in maniera artificiale però da quello che ho capito io mi sa che hanno capito che figlio nato artificialmente anche imponendo le mani con amore sui vetri della provetta nasce con un impatto energetico meno potente che un figlio creato da un contatto tra i due sessi e allora si uniscono come noi ecco però da quello che ho capito eh da quello che ho capito sono talmente gioiosi nella loro vita nello stare insieme che il sesso come gioia è un gradino sotto cioè è come faccio un paragone stupido non me ne vengono altri come se io mangiassi una torta fatta da uno chef stupendo e un bambino mi dicesse mangia questa caramella che voglio sentire se ti piace e mi dà una caramella di quei ricoli coloranti e i sapori io per farlo contento mangio caramella che buona che buona e lascio stare una torta ecco il sesso lo fanno è divertente è piacevole ma è un gradino sotto come gioia alla vita che adesso una vita per noi appunto il nostro corpo ne risenterebbe non siamo ancora dati a certe vibrazioni lei ne vuol 56 ha appena detto che comunque sono molto alti quelli che ha visto lei comunque ha avuto a che fare alcuni e sono anche molto leggeri ha potuto constatare la straordinaria leggerezza malgrado la loro altezza oppure è un dato che li hanno riferito no è un dato che mi hanno riferito per constatare avrei tutto mettere sulla bilancia o prendo l'imbraccio io no 20 kg avrei 20 kg allora penso di poter sostenere no 20 kg ma non ne ho visti tre in tutto per cui in quei momenti lì non ti viene in mente dipende l'imbraccio vedere quanto penso in quei momenti pensi a tutt'altro in quei momenti sei nel qui e ora è come la prima volta che ho visto un loro disco per appuntamento non ho provato né gioia niente l'ho guardato come il cui ora ero io e lui e basta è come meditazione la meditazione non è come la preghiera la preghiera è un contatto tra te e Dio la meditazione è un contatto tra te e te la può fare anche un attimo ed era è stato così ero io il disco e basta dopo quando sono andato a casa mi sono commosso l'ho raccontato ma in quel momento lì sono rimasto però non siamo tutti uguali c'era insieme a me degli altri del gruppo che si abbracciavano gridavano ciao ecco io invece sono rimasto lì così siamo diversi sicuramente allora signor De Lama lei nel suo contatto con gli extraterrestri con i V56 ha interloquito solo con uomini o ci sono state anche delle donne no io solo con ma pochi ho interloquito dunque Sigir una volta di Impietro Gallarate nome dato da noi cosa l'austriaco che era un terrestre che stava con loro come Franco uno di noi del gruppo veniva con noi stava tre giorni una volta al mese e poi era sempre con loro avrebbe dovuto partire con loro diventare uno dei loro come Zimmerman questo austriaco che Zimmerman è andato è andato Zimmerman è andato invece Franco no è successa una tragedia e da quel momento è crollato tutto ma non parliamo di cose tristi quindi la domanda qual era? sì c'erano se ci sono se lei ha visto uomini soltanto uomini o se ci sono anche se avete avuto contatto anche con delle donne ecco so che c'erano anche donne so che c'erano anche erano quattro razze io ho parlato solo con il 156 una volta mi sembra ho parlato con Sayu che era tra gli uomini piccoli e poi dopo c'erano gli uomini blu perché avevano dei riflessi della pelle leggermente blu ma noi diciamo i cinesi gialli ma non è che sono gialli ecco quindi un blu pressa poco e poi c'erano il popolo delle stelle e poi c'erano i giganti e quelli erano alti quattro metri ecco però non venivano fuori non li vedevamo noi ah ok a parte Emilio una volta che ha visto uno sdraiato sulla montagna sulla collina che gli ha fatto così l'ha salutato e dice che era oh scusa che era lunghissimo era insomma sei metri ha detto poi magari ha esagerato quattro metri ecco quattro metri senta signore Delama allora le faccio l'ultima domanda sì poi la lascio la sua tranquillità la vive in un paradiso sono stato fortunato molto fortunato veramente sono contento per lei allora i V56 erano in conflitto con un'altra razza aliena il problema il contenzioso da cosa scaturiva se l'è nella conoscenza dunque ecco questa qui è forse la cosa una domanda più profonda perché spiega il perché del tutto dalla loro presenza questo conflitto non era armato non è un conflitto armato la guerra l'hanno bandita era un conflitto che si svolgeva su piani energetici non so neanche spiegare come ma non c'erano sparatorie o eserciti ecco era un conflitto di energie di politica perché c'è anche una politica galattica ecco di cui non sappiamo niente sappiamo poco anche della nostra se non le cose brutte che ci sono la loro politica non sappiamo niente però c'è allora questo più che bene e male io direi positivo e negativo sono due cose diverse il negativo ci vuole pietra vegetale animale uomo super uomo è un'evoluzione attraverso la quale a un bel momento un essere trascende il male un osho un buddha un gesù hanno trasceso il male quando si trascende il male ci si illumina si diventa come qualità esseri divini allora cosa vuol dire trascendere il male che è impensabile ma come è trasceso il male il male e il bene sono due energie che una compende all'altra se non ci fosse il male il bene non sarebbe bene non sarebbe niente non sarebbe riscontrabile paragonabile sarebbe una scusi sarebbe una cosa qualsiasi un dato comune lei quando respira dice ho ispirato ho ispirato gli è dato dalla natura gratuitamente e lei respira ecco non c'è più quindi lei dice ispirare altrettanto importante come ispirare 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 ecco quindi il male c'è per necessità faccio un piccolo se c'è tempo due minuti prendiamo la parabola cattolica ecco nella Bibbia ci sono tante cose che non vanno messe dall'uomo perché è stata scritta dall'uomo con tutti gli errori che un uomo comporta allora nella parabola cattolica Dio fa i dodici arcangeli e da loro il libro arbitrio perché vuole essere amato liberamente così dice parole povere dice la parabola cattolica il lucifero che vuol dire portatore di luce quando ha il libro arbitrio si ribella e dice no io non ti amo e diventa il male diventa il diavolo allora un bambino di 14 anni la capirebbe ma Dio è onnisciente sapeva benissimo che il diavolo si sarebbe che il lucifero si sarebbe ribellato è onnisciente allora perché fa 12 arcangeli perché uno si ribella voleva che è un impotente ah ho fatto il male lo cancello no no lo lascia come vediamo in giro il Dio Dio permette il male se una bambina viene presa da un pedofilo se non siamo noi a dividerlo Dio lascia fare è è duro a dirsi ma con la bambina per il suo karma dovrebbe passare di lì se no il karma e la reincarnazione spiegano tutto se no è un Dio incomprensibile quindi anche diciamo nella loro dimensionalità hanno hanno principi riconducibili alla dualità così come abbiamo noi quindi il bene e il male esiste solo perché c'è una contraposizione ecco sì sì a un bel momento come hanno trasceso il male a un bel momento trascenderanno anche il bene ecco perché il bene e il male sono così non si può più a certi punti di evoluzione non dicono più come è bello il bene e come è brutto il male noi lo diciamo perché dobbiamo essere ancora attrati dal bene e ripilare il male ma a questi livelli non dicono più che è bello che è brutto diranno come è necessario il bene e come è necessario il male questo livello e si diventa Dio si crea col bene e col male perché è così ok ecco grazie grazie di cuore senti io sono rimasto io allora sapevo della sua età no? però molte persone non sanno quanti anni ha lei ce lo vuoi dire? 24 24 anni una vita intensa però è l'unica bugia che ho detto in questa trasmissione no un po' di più 99 99 ok per gentilezza non chiedo l'età della consorte va bene allora 90 anni 90 anni quindi 90 anni la signora il signor dell'ama 99 anni un grado di lucidità invidiabile molta più di tanti ventenni qualche mese e vado a giorni vado a ore a me un po' tutti va bene allora grazie grazie di cuore veramente per la vostra ospitalità per la vostra generosità grazie a lei signor Luca e grazie anche alle persone che mi hanno assistito in questo in questo viaggio perché siamo ovviamente a casa del signor dell'ama e anche dal punto di vista tecnico quindi le conoscerete Vera e Anna grazie grazie di cuore a queste fantastiche ragazze anche allora allora anche la signora prego prego si chiama Elvina e la signora Elvina che comunque è un'amica un'amica la vera amica una vera amica che sta con noi ci aiuta in tutto e per tutto è un angelo caduto dal cielo anche lei anche lei è un'aliena non è un'aliena no no hai difetti che un'aliena non ha più come tutti noi come tutti noi grazie a tutti per averci seguito vi auguro un buon proseguimento ciao grazie